Ciao ragazzi, breve video recensione per parlarvi di questo lettore mp3 della AGP Tech. Allora, questa che ho in mano in questo momento è la confezione, vedete la classica confezione cartoncino in color marrone paglierino diciamo. Allora, e questo è tutto il contenuto della confezione. Il modello di riferimento si chiama A20 ed è un lettore mp3 da 8 GB, quindi ha già una memoria interna da 8 GB che permette di mettere all'interno già molti file. In più, oltre ad avere gli 8 GB interni, è disponibile lo slot microSD per poter mettere una memoria esterna ed espandere così la memoria. Credo che accetti microSD fino a 64 GB, mi sembra di aver letto, anche se sinceramente non l'ho mai messa perché ritengo che 8 GB siano più che sufficienti per il mio uso. Allora, questo è il manuale di servizio, di istruzioni, ed è multilingue ed è compreso anche l'italiano, eccolo qui. Quindi insomma, devo dire, è ben fatto da questo punto di vista, anche se spiega velocemente le cose, ma spiega abbastanza bene tutte le caratteristiche di questo lettore. Per quanto riguarda la dotazione di accessori, abbiamo un cavetto USB standard microUSB che serve sia per la ricarica, quindi collegandolo o al PC, ma anche a un caricatore da muro come ad esempio quello del vostro telefono, e serve soprattutto per poter passare file all'interno del lettore con un PC. C'è poi in dotazione un laccetto, diciamo, da collo, quindi un laccetto bello lungo come potete vedere. Questa stringhetta di cotone andrà posta qui in uso sull'apposita clip. Io sinceramente non lo utilizzo, quindi non l'ho mai montato, però insomma è carino che ci sia questo ulteriore accessorio. Abbiamo poi un paio di cuffiette, eccole qui, come potete vedere sono bianche, sempre marchiate a GPTEC e sono molto ben fatte, devo dire, la qualità audio è molto buona ed hanno anche il controllo volume per poter settare direttamente il volume dalla cuffietta stessa. Per chi non ama magari la classica cuffietta libera, ci sono in dotazione anche due, queste qui, le classiche, diciamo, vattine da mettere sulla cuffietta per renderla più confortevole. Io personalmente non le uso, ma insomma c'è a chi piacciono, insomma. Passiamo a vedere il lettore vero e proprio. Come potete vedere è abbastanza compatto, quindi è piuttosto sottile, molto leggero. La scocca esterna è in classica e devo dire è molto comoda anche la gestione dei comandi, abbiamo tutti i tasti qui frontali, quindi abbiamo una ghiera con quattro tasti laterali più uno centrale, due tasti sotto lo schermo e il tasto di accensione e spegnimento laterale, non ci sono altri tasti laterali. Sul fondo invece abbiamo la porta di ricarica, l'asola per poter mettere l'accetto da collo e la porta cuffie, che è quella che forse ci interessa più delle altre, basta collegarlo per avere la connessione cuffie. Ripeto, la qualità delle cuffie in dotazione è piuttosto buona, quindi già una bella cuffia che permette di ascoltare musica senza grossi problemi. Ovviamente non è una cuffia da audiofilo, ma insomma, sinceramente per il prezzo complessivo pagato mi sembra un'ottima cuffia, devo dire, un buon rapporto qualità-prezzo. Andiamo ad accendere il lettore, basta mantenere premuto qualche secondo il tasto laterale e vedete lo schermo è a colori, non è di altissima definizione, ma si vede abbastanza bene, non è particolarmente luminoso. Comunque fa il suo mestiere, diciamo. Cosa molto buona, forse l'ho riuscita a vedere dal video, la scritta in italiano, perché il lettore ha varie lingue, quindi sotto impostazioni posso andare a scegliere la lingua, tra cui è compreso anche l'italiano e devo dire è molto comodo perché permette di facilitare l'uso a chi magari non è esperto nelle lingue, quindi non conosce magari l'inglese e così via. Allora, vediamo subito al volo l'icona, abbiamo la musica, la radio FM, la vista cartella è molto comoda perché permette di sfogliare praticamente il contenuto della memoria interna come se fosse un computer, quindi permette di vedere le cartelle, andare a scegliere magari gli mp3 e così via. Per esempio io sotto music ho messo vari cd musicali, vedete ad esempio vado su negrita, entro e posso vedere tutto il contenuto all'interno delle cartelle, tutti i tipi di file, quindi sia mp3 ma anche jpeg, le immagini e così via. E cosa carina, vedete, il lettore permette anche di vedere i file d'immagine. Ovviamente il display è a bassa risoluzione, quindi non si avrà una qualità eccelsa, però insomma funziona e fa il suo scopo da questo punto di vista, quindi insomma, tra virgolette, permette anche di vedere le immagini. Allora, torniamo sul menu principale, abbiamo come vi dicevo il tasto impostazione, sotto impostazione abbiamo tutta una serie di parametri, quindi a modalità riproduzioni, il timer di autospegnimento, la personalizzazione del display, la data e l'ora per poter impostare appunto l'orario interno al lettore, la lingua e varie informazioni che permettono di avere sia le caratteristiche del lettore, la memoria del residuo e quant'altro, ma anche di riportare alle impostazioni di fabbrica il lettore. Abbiamo poi il menu registrazione che permette di registrare e di riascoltare i file registrati, la modalità allarma che permette di impostare sia una sveglia, tra virgolette, una vera e propria sveglia, ma anche un timer di, diciamo, tipo cronometro, quindi permette di utilizzare il lettore come se fosse un cronometro a tutti gli effetti, con tanto di funzione l'app, vedete, per esempio, posso andare ad utilizzarlo come un cronometro da corsa e ad ogni giro preme il tasto seguente per segnare i vari tempi dei vari giri, quindi una funzione che forse non verrà sfruttata appieno, ma potrebbe essere comoda per chi magari usa il lettore quando va a correre, insomma, quindi è una funzione aggiuntiva che a qualcuno può far comodo. Altre modalità abbiamo la riproduzione video che permette di vedere video con questo piccolo lettore mp3, il libro elettronico che permette di leggere i file in txt, quindi posso andare a vedere, posso caricare dei file di testo e andarle a leggere direttamente dal lettore e poi abbiamo una piccola funzione per vedere i file di immagine, quindi posso andare a vedere tutte le immagini presenti all'interno dei cd o posso caricare delle mie foto. Queste sono due foto di esempio, quindi questa che vedete in questo momento e quest'altra. Vedete i colori sono discreti ma diciamo lontani da quelli di un display di alta qualità, però insomma ha una funzione aggiuntiva. Per quanto riguarda i video permette di riprodurre solamente video a tra virgolette bassa risoluzione, eccolo qui. I video possono essere riprodotti a una risoluzione di 160x128 punti, che sarebbe la risoluzione di questo display. Allora, normalmente i video trovati su internet non sono a questa risoluzione, ma cosa carina è che collegandolo il lettore al pc c'è un'apposita utility per poter ridurre qualsiasi video in questo formato, quindi è dotato diciamo di un software di conversione che vi permette di adattare dei video presi dal pc a questa risoluzione, quindi permette appunto di caricare dei video su questo lettore. Ripeto, forse è una funzione più utile magari se siano dei bimbi o quant'altro, ma insomma comunque a qualcuno può far comodo, quindi è comodo che ci sia. Per quanto riguarda la riproduzione, l'audio è molto buono e permette anche di personalizzare l'equalizzazione e di avere tantissime impostazioni. Tra l'altro, cosa carina, posso andare a sfogliare il catalogo degli mp3 presenti nella memoria interna, per artisti, per album, per generi e per qualsiasi altre cose, quindi per sequenze e così via. E cosa carina, posso anche crearmi delle playlist personalizzate, così da riprodurre i miei mp3 preferiti. Cosa carina, vedete sotto visione album, posso addirittura sfogliare per anteprima il cd, quindi posso andare a vedere tramite cd l'immagine che mi interessa, ad esempio questo qua, il cd di Max Gazet Maximilian, e vedete, vedo la copertina e qui ho una breve di Tascalia con scritto il titolo dell'album, quindi entrando poi avrò tutti gli mp3. Durante la riproduzione ovviamente ho la copertina e in più posso andare ad impostare le varie modalità di riproduzione, quindi secondo me un lettore ben fatto, devo dire. Ed è molto comodo perché appunto vi permette di, diciamo, di gestire al meglio la riproduzione audio, quindi posso impostare la ripetizione dei brani, se avere una riproduzione casuale, avere l'equalizzazione e così via. Quindi insomma, secondo me un buon prodotto. Utile anche il timer di spegnimento per chi usa il lettore magari per addormentarsi, in quanto appunto è comodo per poter andare a far spegnere da solo lettore dopo 8-8 minuti. Per quanto riguarda la funzione del registratore vocale, devo dire funziona abbastanza bene, quindi nonostante il microfono sia relativamente piccolo, quindi non è pensato per essere principalmente un registratore vocale, tutto sommato fa anche questa funzione abbastanza bene, quindi magari per una lezione universitaria e quant'altro può essere utilizzato anche per registrare tranquillamente una lezione, quindi buono da questo punto di vista. e la cosa che mi piace è che permette di andare a personalizzare sotto impostazioni tanti parametri di registrazione, quindi sia i kbit di registrazione, da 512 fino a 1536 kbit per secondo, e posso anche andare ad impostare vari parametri, tipo la tipologia di registrazione, posso registrare in mp3, in wave o in ac, mi sembra, quindi varie modalità di registrazioni. Quindi, insomma, un prodotto completo che non costa tanto e che, devo dire, è molto ben realizzato. Funzione molto utile, che molti di voi sicuramente utilizzeranno, è il blocco dello schermo. Basta mantenere premuto questo tasto per qualche secondo e si va a bloccare tutta la parte dei tasti, così da poter mettere in tasca il lettore e non premere casualmente i tasti. Quindi, devo dire, un prodotto ben fatto e piuttosto solido, mi sembra, quindi sono soddisfatto dell'acquisto. Come al solito, se avete dubbi o curiosità, basta che mi scriviate sotto questo video. Grazie alla prossima, un saluto da Mariano.